Palla dentro, Wallace, Wallace, no! Cosa fa? No, non ci credo. E la Roma è in vantaggio. No, ha fatto una cazzata pazzesca, Wallace. Wallace regala il gol del vantaggio alla Roma, un errore incredibile. Ha volevo fare il tacco. Ha fatto una cavolata pazzesca, ha fatto il tacco dentro l'area di rigore. Una cosa che non si può vedere, una cosa per cui non deve giocare più, una cosa per cui non può stare più in campo, un giocatore che fa prendere un gol al derby in questo modo, una cosa vergognosa. Una cazzata pazzesca, l'hai detto bene, e lo ripetiamo. Non puoi fare una cazzata così in un derby! Ma come cavolo fai a prendere un gol così? Su un'azione semplice, semplice. Recuperi la palla, ti metti a fare il tacco da dentro l'area di rigore! È veramente una cosa... una cosa veramente bruttissima. Ma non ci sta con la capoccia uno che fa una cosa così! Non ci sta con la capoccia! Non è possibile prendere un gol in questo modo! Ridicolo! Un gol ridicolo! Da una giocata ridicola!